Ciao ragazzi io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo video di For Honor per parlare un po' non solo della patch 1.05 che stiamo ancora pazientemente attendendo su console e tra l'altro volevo anticipare ovviamente novità su questo versante perché appunto è qualcosa che tutti si stanno chiedendo finalmente ci sono notizie da Ubisoft ha annunciato che in settimana sebbene in settimana sia molto indefinito arriverà questa patch anche su Xbox One e PS4 per cui non disperiamo sebbene io stia rosicando parecchio da diversi giorni del fatto che appunto su PC è già arrivata e su console siamo in trepidante attesa ma comunque arriverà in settimana speriamo presto ecco perché appunto le novità saranno tante saranno interessanti prima fra tutto il discorso degli ordini che verranno unificati tra PvP e PvE che altro non essono le PvE comunque avremo modo e tempo di parlarne in maniera un po' più approfondita quando uscirà questa patch per cui per adesso ci teniamo solamente a aggiornarvi un po' sulle notizie relative alla sua uscita ma perché sto facendo questo video? Perché finalmente dopo diversi giorni di analisi un po' più approfondite posso dire che probabilmente Ubisoft ha agito sul versante della tenuta dell'online perché non sto più sperimentando grandi disconnessioni non lagga più, non ci sono più crash improvvisi dei server almeno su Xbox One la situazione sembra essere veramente rinata sotto tutti i punti di vista adesso facciamo uno scontro rapido tanto per ed è un qualcosa che sinceramente non mi aspettavo in tempi così brevi nel senso di recente avevamo parlato del fatto che la situazione stava un po' migliorando però comunque c'era chi diceva appunto che stava migliorando dipendeva dai giorni dagli orari insomma sembrava una cosa un po' casuale adesso posso dire che almeno per quella che è la mia esperienza i miglioramenti ci sono ce ne sono veramente tanti e sono evidentissimi il motivo che mi fa credere che effettivamente Ubisoft stia intervenendo sia intervenuta e abbia in mente di intervenire in maniera sempre più concreta per far sì che questo gioco possa confermarsi ciò che abbiamo sempre pensato che fosse ovvero un gran bel prodotto che deve essere alimentato non solo da una community attiva ma soprattutto da un team di sviluppo che lo curi tanto quanto si curerebbe un bimbo in fasce per cui lo stanno facendo speriamo si continui così adesso attendiamo il matchmaking che purtroppo si conferma abbastanza lento e cerchiamo di darne prova anche in questo video della maggior stabilità generale oh allora un bel duello con un giustiziario io adesso ultimamente sto usando il kensei una classe con cui mi sto trovando benissimo per quanto sia abbastanza nuovo non l'ho mai approfondita più di tanto ma la trovo veramente adatta al mio modo di giocare poi adesso sicuramente perderò malissimo però ce la metto tutta come sempre piella piella aia sono arrivato dardi aia ma mi sono parato tantissimo non è servito vabbè cerchiamo di però questa classe io la soffro terribilmente non c'è vengo vicino a te non c'è vengo tu mi vuoi buttare di sotto io non voglio non voglio cadere e levate di torno niente ho cercato di fare la schivata ma non c'è stato grande verso vabbè drammaticamente sveglione della domenica che tocca fa secondo ora cerchiamo di fare almeno il round della bandiera visto che questo mi dà l'idea di essere uno di quelli che ci farà tanto tanto male non riesco mai ad arretrare con velocità quando vorrei la cosa che mi manda eh vabbè ste maledette proiezioni niente non l'ho presa piena pure qua vabbè cerchiamo di risollevarci un attimo questo è tutto tranne che irresistibile sto tizio il problema è che io sono dannatamente lento dai 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 oh almeno un round forza eh 3 a 0 no 3 a 0 è troppo per quanto io sia oggettivamente scarso a sto gioco 3 a 0 mi sento veramente un bambino di 3 anni 3 a 1 già è un po' più onorevole per quanto ugualmente triste però diciamo che ci provo allora vieni vieni finisci mi forza sono incastrato niente sta sta botta in testa non si riesce a a me quando mi sbattono contro i muri finisce veramente male 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 comunque vabbè avevo detto 3 a 1 va bene così comunque come vedete l'obiettivo non era ovviamente quello di farvi vedere quanto sono bravo a giocare ma quantomeno che la tenuta del server è decisamente più stabile come vi dicevo adesso magari lo proviamo con una modalità un pochino più ad ampio spettro magari facciamo un bel 4 contro 4 che potrebbe essere un'eliminazione ecco un'eliminazione mi piace l'idea così è la prova del 9 ma adesso a prescindere da come andrà qua è veramente una settimanella buona che sto giocando con molta frequenza in po' tutti gli orari nel senso nei ritagli di tempo mi capita magari di fare un duello un deathmatch un dominio quello che è però devo dire che non ho mai avuto quei grandi enormi problemi che mi rendevano veramente ingiocabile l'esperienza di disconnessioni ne avrò avute per intenderci parliamo di una media di 2 su 10 partite se non una addirittura su 10 partite cioè proprio una cosa rarissima come magari capita anche in giochi ben più popolari ben più noti come può essere un FIFA insomma anche in FIFA capita ogni tanto che si perde la connessione per cui tutto nella norma ecco anche in For Honor adesso o quantomeno lo sembra primo round allora vediamo se in questo caso riusciamo a portare a casa un qualcosa di un po' più consistente rispetto a prima dove ci hanno letteralmente massacrati allora questo è un bot ma perché i bot continuamente calma 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 che col bot me la gioco no col bot non me la so giocare manco di niente niente ho preso lo sveglione dal bot fa piacere vediamo se il compagno riesce a a vendicarmi rialzami rialzami sono qui vicino qualcuno mi riprenda oh eccomi eccomi bene lo scudo fammi via lo scudo è rimasto uno solo ah no abbiamo vinto vabbè meglio così io come al solito mi confermo completamente inutile ma va bene lo stesso io continuo a soffrire terribilmente i bot non chiedetemi perché ma oh uno normale forza calma calma mi riesco sempre a andare a a peragare in posti bruttissimi ok bene almeno una mini prova di forza l'abbiamo data vado 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 dov'è il compagno morto arrivo la vita la vita la vita ok tre contro uno io trovassi qualcuno dove sono tutti andiamo andiamo sta nascondendo benissimo il tizio dai 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 proviamola ma dove stanno ah no vieni qua vieni qua che scappa così in maniera vieni vieni eh vabbè dai 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 che manca solo il bot manca solo il dannato bot ed è finita dove eccolo ho lisciato clamorosamente mi sono suicidato benissimo ma ma perché ma perché sono così cretino meno male che mi hanno che mi hanno rialzato subito ok vediamo che questa ritorni ok bene è stato bellissimo il mio lancio nel vuoto con suicidio annesso per chissà quale ragione misteriosa vabbè terzo round allora siamo sul 2 a 0 netto ho parata è tipo la prima parata che faccio in tutti i video di For Honor dai dai che va bene col che in sei no bello si sei arrivato nel momento clou pensa c'è te ok eeeh chi manca dai 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 che ho fatto la mia porca figura oggi nonostante un duello improponibile prima no è stato aspettate un attimo che ristabiliamo un attimo la situazione qui ok t'attacchi volevi idee eh diamo una mano diamo una mano mamma mia mi ha salvato veramente mi ha salvato tutto mi ha salvato vabbè eh dottore ha detto che devi morire come si suol dire bene 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 serie eroica sarà tipo là la terza volta in vita mia che mi capita una cosa del genere non so arrivato ultimo ho superato il bot fermi tutti a a a tipo nove punti dal secondo una cosa miracolosa beh ragazzi io direi che con questa roboante vittoria del mio kensei in cui ho fatto ancora discreta figura per una volta nella vita direi che posso chiudere qua il video appunto vi anticipo che ci sarà a breve un nuovo video in cui parleremo della 1.05 non appena uscirà fino ad allora vi invito a farmi sapere come vi sta andando al punto tale che riproporrei quel sondaggio che vi avevo già proposto qualche video fa per farmi sapere come state trovando la tenuta dei server l'ho stata attuale delle cose in maniera tale che vediamo se effettivamente c'è un miglioramento anche da parte vostra oppure se sono fortunato io cosa che non mi auguro insomma perché spero per tutti quanti che la situazione sia effettivamente migliorata detto ciò niente ragazzi vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao